Oggi è un momento conclusivo di quello che è stato il percorso insieme, fatto di grandi sacrifici di tutti noi come presidente dell'associazione aver fondato questo gruppo di lavoro perché voi sapete il percorso da cui siamo partiti e sapete oggi a che punto siamo di quella semina. Oggi ho questa certificazione, questo attestato e in questo attestato c'è un frutto di tutto il sacrificio fatto da Danil, da Nicola, da Luca, da Maurizio, da Giorgio, da Riccardo, da Pietro, da tutti i ragazzi che hanno partecipato. Io mi porto a casa tantissime nuove amicizie, tanti colleghi con cui condivido sia il lavoro che abbiamo fatto sia la stima fuori. Ho iniziato a conoscere alcuni dei colleghi che mi hanno fatto veramente, veramente crescere tantissimo. Innanzitutto il mio upgrade durante tutta la stagione lo devo sicuramente al gruppo. Raramente in tutti gli altri contesti nel quale sono inserito c'è questa voglia di confrontarsi e di crescere insieme. E dalle vostre testimonianze ho fatto di tanti pezzettini, ho fatto di tante parti che poi compongono il tutto. È stata un'esperienza che mi ha coinvolto completamente. Grazie perché questa è stata la cosa veramente più formativa e questo attestato è una testimonianza di quanto bello, complesso, è fortemente notito è stato questo percorso. Per cui continuiamolo facendo diventare master. L'università non ti prepara a quello che richiede davvero il mondo dell'amore. Ringrazio tutti i colleghi per aver fatto parte di questo percorso incredibile, che tra l'altro non è ancora finito, quindi ce ne sarà ancora da vedere. Questi momenti che scaldano il cuore, io intanto uso il piacere di lavorare con una squadra davvero eccellente, ve lo dico perché è quello che sento. Avere ben chiaro chi siamo e dove vogliamo arrivare. Avere ben chiaro quali sono le nostre risorse, le nostre potenzialità. Se non siamo consapevoli di queste potenzialità, se non lo siamo dobbiamo individuarle, tirarle fuori, allenarle e allora è lì che la potenzialità diventa talento. Per sempre ci vuole molta costanza, capito? Costanza e impegno, capito? Non arrendersi, insomma, questo vi dico.